Conferenza stampa al comune di Catania per presentare Expo Protezione Civile. Sentiamo ancora Gaetano Russo. Dal 27 al 30 marzo 2008 tutti gli operatori della protezione civile siciliana si sono dati appuntamento alle ciminiere di Catania per la prima fiera di protezione civile del sud Italia. La manifestazione fieristica pronto intervento Expo è una manifestazione che si rivolge principalmente al comparto della protezione civile, quindi a tutte quelle associazioni di volontariato, gruppi comunali, le province, insomma quanti ogni giorno sono allertati da tutte le emergenze che la nostra regione Sicilia purtroppo vive. Quindi un momento di verifica di quanto viene oggi realizzato in Sicilia, ma anche un momento di aggregazione perché ritrovandosi tutti in fiera sicuramente si avrà modo anche attraverso i convegni che si svolgeranno all'interno della manifestazione sia al mattino che al pomeriggio, si avrà modo di ascoltare le varie tematiche che oggi sono attuali. I settori espositivi della fiera sono previsione, prevenzione, intervento e ripristino e abbiamo chiesto proprio all'ingegnere Spampinato che cosa rappresenta questo Expo. Rappresenta un'occasione di incontro per tutti quelli che operano all'interno del sistema di protezione civile, sia che essi siano associazioni di volontariato, enti, pubbliche amministrazioni. È un momento dove ci si può incontrare, ci si può confrontare, confrontare ovviamente le proprie tecniche, i propri sistemi, i propri mezzi, le proprie attrezzature. Cioè è in ogni caso un momento di crescita per tutti.